Musica Ancora bentrovati con l'informazione di Antenna Sud, entriamo adesso nelle pagine interne dei giornali per vedere come viene affrontata la questione politica. Partiamo dalla gazzetta del Mezzogiorno, governo al lavoro, la legge di bilancio, titola la minoranza per una volta unita dopo aver protestato in tutti i modi riesce a ottenere più tempo per l'esame almeno formale del testo di legge. Lo vediamo il titolo, posizioni in rivolta, slitta l'occhiei alla manovra, si vota domani ma c'è una grana pronta ad esplodere la questione balneari. Le principali misure del governo vengono spiegate anche con questo grafico da parte del quotidiano La Gazzetta, contrasto al carabollette, pacchi alimentari a soggetti in povertà assoluta, segno unico più corposo, congedo parentale dal 30 all'80%, agevolazioni prima casa per under 36%, rinegoziazione mutui da tasso variabile affisso per le famiglie. Mentre per le imprese, credito d'imposta più alto, agevolazioni fiscali per investimenti, fondi alle piccole e medie imprese per acquisto beni strumentali, incentivi per assunzioni, sostegno al Made in Italy, rateizzazione debiti delle società sportive. Nelle stesse ore la Premier affronterà la conferenza stampa di fine anno, il Senato licenzierà la tormentata manovra della centrodestra. Poi ancora il caso Exilva sul tavolo del Consiglio dei Ministri, in ballo il prestito ponte da 680 milioni di euro, non deve contrastare con le norme dell'Unione Europea contro gli aiuti di Stato. Questo è il titolo della Gazzetta. Poi ancora si parla di femminicidi con Baby Gengo e NG, nuove regole, ma vediamo invece la pagina del Quodidiano di Puglia, la scelta del governo, reddito stretta anti-nit, no ai giovani non diplomati, 1 su 10 è a rischio. Come cambia il reddito di cittadinanza? Lo vediamo in questo approfondimento alla stretta. 18-59 anni abili al lavoro, se non hanno nel nucleo disabili, minori o persone a carico over 60, avranno diritto al reddito per non più di 7 mesi. 18-29 anni, se non hanno completato il percorso di studi, non avranno il reddito di cittadinanza, quindi devono essere comunque diplomati. Formazione, chi non frequenta un corso di formazione professionale di almeno 6 mesi non avrà diritto al reddito. Rifiuto, chi rifiuta la prima offerta di lavoro non avrà diritto al reddito. Poi ci sono i numeri che riguardano la Puglia, per quanto riguarda sempre il reddito. Parla il presidente di Svimez, è una discriminazione territoriale, l'Italia riparta dal mezzogiorno. Perché poi c'è una questione anche abbastanza importante, perché adesso le offerte di lavoro possono arrivare ad ogni parte d'Italia. E al nord ci sono molte più aziende rispetto che al mezzogiorno, quindi potrebbero arrivare molte più offerte di lavoro dal nord. E molti potrebbero, insomma, vedersi costretti di rifiutare la proposta di lavoro e quindi vedersi anche revocare il reddito di cittadinanza. Si parla ancora di autonomia, allarme e sanità, medici in fuga verso il nord, camici bianchi pronti a spostarsi in aree economicamente più gratificanti. Sindacati di categoria preoccupati con la riforma, si penalizzerà il sud. Parleremo ancora di sanità e di sud, sempre sfogliando le pagine dei giornali. Intanto il nostro focus lo facciamo sul governo, che porrà la questione di fiducia sulla manovra del Senato. E scontro sui tempi, le opposizioni occupano la commissione bilancio. Da Roma il corrispondente Francesco Manigrasso. Tempi ristretti per la manovra economica arrivata blindata all'esame del Senato. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo, ha fatto sapere che il voto finale di Palazzo Madama alla legge di bilancio è previsto per il 28 dicembre alle ore 20. Ci presentiamo con la consapevolezza, con l'umiltà, con la determinazione di aver fatto un buon lavoro, di aver in tempi risicati risposto a quelle che sono le esigenze dei cittadini italiani pugliesi. Sappiamo bene come succede più volte che poi sulla manovra economica, una volta che viene esaminata in un ramo del Parlamento, sull'altro ramo c'è il voto di fiducia e arriva blindata, quindi diventa più una discussione politica su temi che già si conoscono e sono stati abbondantemente dibattuti alla Camera dei Deputati. Mai visto anticipare i termini degli emendamenti di 13 ore, tutto per approvare la legge in tempo per la conferenza stampa di Meloni il 29. Una vergogna, gridano dall'opposizione. Continuiamo a produrre leggi di bilancio in limite dell'anno, insomma. C'è qualcosa che evidentemente non funziona in questo meccanismo legislativo e che produce delle leggi non buone per la qualità del nostro Paese. La legge di bilancio aumenta il lavoro precario, introduce un nuovo concetto di schiavitù, eliminando la congruità dell'offerta del lavoro e annienta tutti gli strumenti di protezione sociale come reddito di cittadinanza e non prevede nulla per la crescita. Giorgia Meloni si schiera con le lobby conservative e ammicca al malaffare. Noi continuiamo a stare invece convintamente dalla parte di chi più ha bisogno. I lavori del Senato sul bilancio affiancano quelli di Montecitorio sul decreto anti-Rave che va convertito entro il 30 di dicembre. Qui si gioca la partita. Sforare oltre significherebbe farlo decadere. Per questo la maggioranza, pronta ad una tagliola, teme l'ostruzionismo delle opposizioni. Per noi poi di Forza Italia il decreto rave è un po' il calcio d'inizio per aprire una riflessione più ampia sui temi della giustizia, in senso riformista e garantista. Voglio ricordare alla lamentosa sinistra di queste ore in aula che fu proprio la morgese ad alzare bandiera bianca e a dire manca una legge speciale, siamo maglianeri in Europa, ho bisogno di una legge speciale per intervenire anche in fase preventiva. Ancora sui giornali per dare uno sguardo a quelle che sono le notizie. In primo piano senza denuncia, i ladri in libertà, la polizia giudiziaria sotto pressione, il furto diventa perseguibile solo querela di parte per quanto riguarda il racconto dell'edicola del Sud e il solito pendolo che sta oscillando si va dal DL rave allo svuota carceri. Il presidente della Corte d'Appello di Bari, Franco Cassano, veniamo da un'ondata iper sicuritaria. Invece la stampa ci racconta delle nomine, il ribaltone che potrebbe arrivare, perché ci sono in scadenza più di 70 incarichi tra partecipate e ministeri. Meloni conferma solo Descalzi-Adeni, Via Starace da Enel, Cingolani verso Leonardo, Delfante in Pol per CDP. Poi insomma queste sono le varie caselle in scadenza e quello che potrebbe accadere di qui a breve. Di spalla ancora la manovra, slitta la fiducia, scoppia la grana balneari, le opposizioni occupano la commissione bilancio, poi la maggioranza cede più spazio al dibattito. Forse Italia propone il rinvio delle gare, delle concessioni, riunione con Meloni sulla concorrenza. Abbiamo insomma ascoltato anche dal nostro corrispondente da Roma Manigrasso il punto della situazione. Stanziamenti da un miliardo e mezzo di euro per il Sud nella prima manovra del governo Meloni, ZES e credito d'imposta, ma potrebbero non bastare. Alla fine, nella prima manovra finanziaria, targata Giorgio Meloni, il Sud porta a casa stanziamenti per 1,6 miliardi di euro, a partire da credito d'imposta e zone economiche speciali, ma potrebbe non bastare. Almeno ad incrociare i numeri con quelli dell'osservatorio IMSS sulla precarietà che vede un pallottoliere in equilibrio tra nuovi rapporti di lavoro dal 2022 e cessazioni. 365 mila circa contro poco più di 329 mila unità. Bari e Lecce costituiscono i bacini più consistenti di neoassunti, ma all'inizio dell'anno che arriva potrebbe vedere una nuova contrazione. Senza contare il mismatch di competenze, che poi vuol dire aziende che cercano profili difficili da trovare sul mercato. Nel 2022 il 60% delle imprese con dipendenti è infatti previsto assunzioni, ma nel 41% dei casi arrivarci è stato più complicato del previsto. Un valore in aumento di 9 punti rispetto al 32% di difficoltà registrato dalle imprese. Nel 2021 cita il sole 24 ore, Puglia compresa, conferma Confindustria, varando l'Accademy della Meccanica, specie nel manifatturiero. 107 mila posizioni disponibili, una su due tutt'altro che scontata. E le maggiori difficoltà sembrano essere delle imprese del nord-est, che vede in quella pascia il 46% delle figure, seguito da nord-ovest, Toscana, Umbria e Marche. Meglio Lazio a mezzogiorno. Ancora sulle prime pagine andiamo a vedere quello che stavamo accennando poco fa in merito alla questione relativa alla sanità. Palese e calcio mercato dei medici, così il servizio è ingestibile, parla l'assessore regionale della salute. Una manovra di questo genere è una bomba atomica per il sistema. In Puglia opere sbloccate per 265 milioni di euro, finanziamenti per l'itinerario Bradanico-Salentino e per altri tratti stradali che collegano Foggia con Sansevero e Cerignola. Il codice degli appalti, così è a prova di futuro, il docente di Unisalento e le nuove norme è al passo con il progresso tecnologico. Si tratta di uno strumento autoesecutivo che non rinvia a provvedimenti attuativi. Questo insomma tra le pagine di attualità del quotidiano di Puglia. L'ultima pagina che andiamo a vedere è ancora relativa agli incidenti. Il report strage sulle strade pugliesi in soli sei mesi, 96 morti. Ma di questa notizia avremo modo di parlarne in maniera più ampia nel corso del nostro approfondimento. Intanto a Ginosa l'Onorevole De Palma ha fatto il punto con i cittadini sull'operato di Forza Italia insieme al governo Meloni dopo i primi mesi di lavoro. L'Onorevole Vito De Palma, coordinatore provinciale di Forza Italia Taranto, ha voluto tracciare un bilancio. L'anno volge al termine. È soddisfatto del lavoro fatto e dell'intervento di Forza Italia in questo governo, anche guardando ai nostri territori. Abbiamo voluto segnare in maniera decisiva questa manovra finanziaria, in particolar modo sull'aumento delle pensioni minime, in particolar modo per i cittadini di sopra i 75 anni. Avremmo voluto fare di più lì, ma ovviamente anche qui le risorse sono un incastro. E quindi abbiamo pensato che gradualmente nei 5 anni arriveremo a quello che era l'obiettivo del Presidente Berlusconi dei 1000 euro, così come abbiamo voluto inserire a tutti i costi il meccanismo della decontribuzione per l'assunzione dei giovani sotto i 35 anni e chiaramente quello che è sempre stato il cavallo di battaglia di Forza Italia, quella della diminuzione del peso fiscale. De Palma, la sua carriera politica e istituzionale l'ha fatta conoscere molto bene dai cittadini di questa zona, quindi c'è anche una sorta di confidenza. Che cosa le chiedono? Volevano un governo politico. Oggi ai cittadini noi stiamo dando un governo politico, non un governo di tecnici, ma un governo eletto dal popolo e che con il popolo si deve confrontare. Diamo la linea ad Antonella Fazio dalla redazione di Bari. Buongiorno Antonella, un'ultima ora di cronaca. Non sento Antonella in studio, non so se è in diretta da casa, chiedo aiuto. Antonella adesso ti sento, buongiorno. Scusi Paolo, buongiorno. Dicevo, 1 milione e 250 mila euro è il provento stimato dagli inquirenti. Secondo che questa mattina stanno emettendo, l'operazione è ancora in corso, una serie di ordinanza di custodi e cautelari nei confronti di numerosi soggetti, in prevalenza di estrazione cerignolana, presunti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, finalizzata la commissione di reati contro il patrimonio ed in particolare furto, ricettazione e riciclaggio di veicoli. L'attività investigativa che in queste ore, ripeto, è ancora in fase di svolgimento e svolta dagli uomini della squadra mobile, del commissariato di polizia di Cerignola e dal compartimento della polizia stradale Puglia. è stato così, in questo modo, svelato e disarticolato un insidioso, lo definiscono insidioso e solido, gruppo dedito alla commercializzazione molto ampio, lo definiscono gli inquirenti esorbitanti di veicoli rubati in grado di produrre quindi un elevato profitto, proprio quello che dicevamo, 1 milione e 250 mila euro. Paolo. Vediamo Antonella che quella insomma del furti di auto per poter poi riciclare pezzi di ricambio, anzi chiedo alla regia di far vedere in questo momento le immagini della polizia di Stato in merito a questa operazione, eccole stiamo vedendo in questo momento, insomma lì proprio nel Foggiano non è la prima operazione del genere, diverse ce ne sono state in questo anno Antonella. Assolutamente sì, la definiscono cannibalizzazione delle auto, la zona di Cerignola, quindi quella del Passo Foggiano, è una zona particolarmente attenzionata dagli inquirenti, proprio perché non è il primo gruppo criminale, la prima banda che viene disarticolata, banda dedita a questo tipo di attività criminali, ce ne sono state altre in questo anno, questa diciamo che con tutta probabilità è l'ultima che è stata scoperta quest'anno, ma fino al 31 dicembre chissà. Chissà, mancano pochi giorni ma tutto può succedere. Può succedere. Insomma, il video della polizia avremo modo poi di approfondire nelle prossime edizioni del telegiornale questa notizia. Grazie Antonella, buona giornata. Buona giornata, grazie Paolo. Torniamo a parlare di politica, un focus regionale dal rimpasto di giunta alle politiche passando per Quirinale Comunali un anno in regione Puglia, ce lo racconta Antonio Bucci. Si era aperto con l'onda lunga del rimpasto in via Gentile del 2022 della politica pugliese, si chiude con una doppia scossa di terremoto nelle stesse stanze, con un nuovo gruppo in quota d'azione all'opposizione, eppure con un evendamento salva legislatura, che fa da termometro della temperatura nel centro-sinistra. Gennaio va via all'insegna dell'attesa, febbraio però il mese degli avvicendamenti in giunta, di Roccopalesi alla sanità, Gianfranco Lopani al turismo, eppure grazie di Bari alla cultura, sì, ma a differenza degli altri, senza i gradi di assessore. Un precedente è tornato a fine anno, anche con Stefano Lacatena ed Enzo Di Gregorio. La maggioranza si divide, i dem chiedono la verifica, alla fine resta tutto com'è. E non va meglio quando bisogna scegliere i delegati al Quirinale, il resto è marcia di avvicinamento alle politiche, in mezzo a un turno di comunali senza troppi colpi di scena, Barletta al centro-destra, Taranto al centro-sinistra, e i civici a fare la parte del leone. Ma nelle urne di settembre la musica cambia. Niente posti in lista, se non per il capo di gabinetto di Michele Emiliano Claudio Stefanazzi, e un lungo braccio di ferro con i dem sui posti elegibili. Finisce con la vittoria del centro-destra a largo margine, i 5 stelle rinvigoriti, il totogoverno, Raffaele Fitto Ministro, è regista sul piano nazionale di riprese e resilienza, eppure Alfredo Vandovano, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, equilibri nuovi e un anno frizzante, prima e dopo le bollicine. Dopo un lungo travaglio, sbloccati i fondi da destinare alla Scuola Europea di Brindisi, la terza in Italia di questo tipo, insieme alle più storiche consolidate Varese e Parma, un risultato ottenuto grazie all'impegno dell'Onorevole Dattis. Questa è una delle sedi della Scuola Europea di Brindisi, un'eccellenza del territorio da valorizzare al meglio. Da qui l'impegno di Mauro Dattis, parlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia Puglia. Nei giorni scorsi, la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, ha approvato il testo di un emendamento del deputato Brindisino, che destina 3 milioni di euro, un milione per il 2023, un milione per il 2024 e uno per il 2025, per garantire l'assunzione degli insegnanti madrelingue per una migliore organizzazione scolastica. La Scuola Europea ha lo scopo di fornire una cultura multilingue, multiculturale, come giusto che sia soprattutto nelle città che ospitano basi logistiche dell'ONU. Da qui l'esigenza di potenziarla al massimo e l'impegno dell'onorevole Mauro Dattis. Devo dire che con una collaborazione veramente eccellente con il Ministero dell'Istruzione, con l'Ufficio Regionale Scolastico, siamo riusciti a convincere la Commissione Bilancio a stanziare 3 milioni di euro per i prossimi tre anni per la Scuola Europea di Brindisi, che è un'eccellenza e anche un'unicità legata al fatto che la base logistica dell'ONU si chiama del Mediterraneo e ha sede a Brindisi. Quindi c'è un grande interesse anche del Ministero degli Esteri, della Farnesina. Il Vice Presidente del Consiglio Tagliani ha attivato per questo un tavolo che si finisce regolarmente, un tavolo tecnico, che parla non soltanto del futuro della Scuola Europea, ma anche e soprattutto del futuro della base ONU in Italia e quindi a Brindisi. Il prossimo step qual è? Il prossimo step intanto è che con questi soldi finalmente le dirigenze scolastiche potranno meglio organizzare la didattica, la scuola, a cominciare dagli insegnanti madrelingua, che era il problema che veniva richiesto per la sua mancata irregolarità da parte dei genitori. Io incontrerò le dirigenze scolastiche, incontrerò l'ufficio regionale scolastico, incontrerò anche i genitori nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, insomma, perché tutto questo ha norma anche di legge, perché qualche anno fa riuscimmo ad ottenere anche in un decreto una legge che finalmente traguardasse all'unificazione delle scuole, quindi alla prospettiva che la Scuola Europea diventa un college, che le cose che abbiamo scritto diventino realtà. Questo è l'obiettivo. Ultima seduta del 2022 del Consiglio regionale Lucano, autorizzato l'esercizio provvisorio per il 2023, approvati il bilancio consolidato e il rendiconto 2021, approvati infine i programmi 2022-2024 dei Lucani nel mondo. Il Consiglio regionale Lucano, convocato in seduta ordinaria, ha approvato a maggioranza l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per l'esercizio finanziario 2023, nel corso del quale, lo ricordiamo, potranno essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, salvo quelle relative ai lavori pubblici e interventi di somma urgenza. Il Consiglio ha poi approvato l'atto amministrativo relativo al bilancio consolidato 2021 e una serie di documenti contabili tra cui il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 dell'ARLAB, l'Agenzia regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata. Ha approvato all'unanimità anche il programma annuale 2022 e il programma triennale 2022-2024 dei Lucani nel mondo, che prevede 200.000 euro per le attività dell'anno in corso e 110.000 euro recuperati dal programma 2019 per i progetti finanziati ma non realizzati e assegnati per nuove attività. In riferimento a quest'ultimo finanziamento la Commissione regionale finanzierà 13 nuovi progetti. L'Assemblea ha poi approvato la delibera di giunta relativa ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi per gli incentivi di solidarietà in favore degli emigrati lucani nei paesi dell'America Latina per l'anno 2020-2021 che saranno concessi a favore delle federazioni delle associazioni degli emigrati lucani fino alla somma di 50.000 euro per ciascun progetto dopo dettagliato rendiconto da parte delle stesse federazioni. Infine è stata approvata la proposta di legge e l'iniziativa della consigliera Sileo che detta modifiche ed integrazioni alla legge regionale 57 riguardante gli usi civici e loro gestione. Ritorniamo sulla postazione telematica. Il sito ANSA scrive è così incidenti stradali in Puglia 96 morti in primi sei mesi del 2022 ferite circa 6.900 persone questi dunque i numeri aumentano gli incidenti stradali in Puglia lo rivela il nuovo monitoraggio dell'agenzia regionale Asset sulla base dei dati trasmessi dalle forze dell'ordine nel primo semestre 2022 in Puglia viene evidenziato nel report sono avvenuti 4.507 incidenti stradali con lesioni di cui 87 mortali con 7 plurimortali che hanno provocato il decesso di 96 persone e il ferimento di altre circa 6.900 i giornali ce lo raccontano così partiamo dalla gazzetta del Mezzogiorno Puglia tragedie stradali in aumento più morti nel Foggiano e nel Barese numeri freddi registrati 4.507 sinistri con lesioni feriti il più 20% questi poi sono i dati provincia per provincia strade killer la strada statale 16 tra le più pericolose l'edicola del sud ci parla anche qui dell'aumento degli incidenti stradali affoggia il primato dei mortali secondo i dati dell'Asset nel primo semestre del 2022 la Puglia torna ai livelli pre-pandemia c'è stato un aumento del 16% 96 morti come dicevamo la strada alle 16% resta appunto la più pericolosa del tacco d'Italia ancora la tendenza per i giovani a rischio monopattino cresce il pericolo per i ragazzi under 25 i minorenni sono la categoria più esposta su bici elettriche e ciclomotori tra i ciclisti coinvolti in scontri spicca il numero dei conducenti compresi nella fascia tra i 45 e i 64 anni anche il nuovo quotidiano di Puglia parla di questo strage sulle strade pugliesi in soli 6 mesi 96 morti i sinistri sono il 16% in più rispetto al 2021 e in crescita anche il numero dei feriti dati da paura nel Barese e nel Foggiano statali la 16 è la più pericolosa con 91 scontri invece andiamo a fare i nostri consueti approfondimenti in Puglia aumentano gli incidenti stradali i sinistri sono tornati ai livelli pre-pandemia come dimostrano i dati trasmessi all'Asset dalle Forze dell'Ordine allora andiamo a vedere il servizio di Flavio Ensalada con la fine delle restrizioni tornano a crescere gli incidenti stradali nel primo semestre 2022 secondo i dati trasmessi all'Asset dalle Forze dell'Ordine in Puglia sono avvenuti 4.507 sinistri con lesione di cui 87 mortali che hanno provocato il decesso di 96 persone e il ferimento di altre circa 6.900 rispetto al primo semestre 2021 si registra un incremento del 16% per gli incidenti con lesione e del 20% per il numero di feriti il leggerissimo decremento meno 3,3% il numero degli incidenti mortali e dei deceduti confrontando i dati del 2022 con la media 2017-2019 il trend dell'incidentalità stradale purtroppo risulta in linea rispetto al periodo pre-pandemia nel primo semestre 2022 il 71% dei sinistri ha coinvolto due o più veicoli che hanno causato il 48% dei decessi e il 77% dei feriti l'11% dei sinistri ha coinvolto i pedoni registrando il 13% dei morti e l'8% dei feriti il maggior numero di decessi si è registrato nella provincia di Foggia con il 26% seguito dalla città metropolitana di Bari con il 25% e dalla provincia di Taranto con il 21% rispetto allo stesso periodo del 2021 il maggiore incremento di sinistri si è registrato nella provincia di Brindisi con il più 22% seguito dalla provincia di Lecce più 18% e dalla provincia di Taranto nei primi sei mesi dell'anno nella città metropolitana la SP 231 ha registrato 16 incidenti di cui due con esito mortale per quel che riguarda le strade statali nella provincia di Foggia la statale 16 ha registrato 28 sinistri di cui 4 mortali nella provincia di Taranto si è segnalata la SS 7 con 32 sinistri un morto e 62 feriti nella provincia di Brindisi si è registrato un incidente mortale sulla SS 379 mentre nella provincia di Lecce la SS 275 ha registrato 17 incidenti con due morti e 30 feriti un ultimo focus è stato dedicato alla cosiddetta utenza debole nei primi sei mesi dell'anno non sono stati registrati incidenti stradali mortali che hanno coinvolto monopattini e bici elettriche sono invece due i sinistri mortali che hanno coinvolto i ciclisti sicurezza stradale tra i temi affrontati a Brindisi nell'ultimo consiglio provinciale debiti fuori bilancio per la sicurezza stradale approvati dalla provincia di Brindisi nell'ultimo consiglio provinciale del 2022 si tratta di lavori di urgenza sulla strada provinciale numero 87 litoranea studio di Brindisi di ramazione per Lido Cerano dimessa in sicurezza della Falesia e degli interventi sulla strada provinciale numero 51 a Cellino San Marco all'intersezione con la strada provinciale di Pasuli interventi urgenti e importanti ma non sufficienti ovviamente che riportano il dibattito sulla mancanza di fondi per l'ente provincia con il presidente Matarrelli che guarda con speranza ad un intervento risolutivo del governo per il 2023 La provincia di Brindisi è proprietaria di mille chilometri di reti stradali quindi una rete stradale molto estesa e alla luce dei tagli effettuati con la legge del Rio evidentemente le condizioni delle nostre strade non sono affatto adeguate noi stiamo provando a fare un piano che possa mettere in sicurezza queste strade abbiamo ottenuto già finanziamenti importanti nel frattempo stiamo agendo con gli strumenti che abbiamo e quindi capita spesso di fare degli interventi di somma urgenza che vengono poi ripianati attraverso le delibere che si portano in Consiglio Provinciale ora l'attuale governo sta discutendo sull'ipotesi di rimodulazione di riforma rispetto alle province quindi probabilmente si torna al vecchio sistema credo che sia un fatto intelligente una misura che occorre portare avanti quanto prima è morta dopo più di un giorno di battaglia la donna coinvolta nell'incidente di domenica sera sulla Trani Andria la vittima una paziente dializzata tranese deceduta dopo un impatto che ha coinvolto un mezzo di trasporto di un'associazione incaricato di trasferire pazienti privati da una città all'altra dinamica ancora al vaglio ma il manto stradale scivoloso e l'illuminazione guasto oramai da mesi potrebbero aver contribuito al sinistro e al suo tragico esito la donna è morta dopo il trasferimento all'ospedale Bonomo di Andria dove l'equipe medica ha provato in vano ad evitare il peggio il decesso è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì si tratta della madre della consigliera regionale Deborah Ciliento attraverso uno dei più belli della Puglia ma non era presente il miglior biglietto da visita la strada provinciale 14 Ostuni Martina Franca ha bisogno di manutenzione la denuncia arriva da Cristian Continelli di Fratelli d'Italia è tra le mete preferite da turisti italiani e stranieri molti dei quali hanno acquistato i mobili di pregio nelle varie contrade Cavallerizza Chiobbica Cervarolo San Salvatore ma è attraversata da un'arteria impraticabile e pericolosa soprattutto in caso di pioggia prendendo spunto da un articolo pubblicato da Milano Finanza sugli investimenti immobiliari nelle zone più chic d'Italia Cristian Continelli coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Ostuni torna a mettere il dito nella piaga lo scempio in cui versano le strade provinciali di Brindisi compresa la SP14 la Ostuni Martina Franca che per la meravigliosa Valle d'Itria non è certamente il miglior biglietto da visita a margine di un sopralluogo l'ingegner Simona Bramato della provincia avrebbe fornito alcune rassicurazioni per conto dell'ente loro mi hanno assicurato che c'erano già in programma degli interventi per 3-4 km che chiaramente sono insufficienti per tutta la lunghezza della strada per Martina Franca però hanno anche constatato che ci sono delle mancanze da parte della provincia specie in alcuni punti della pulizia dei bordostrada che mi hanno assicurato che nei prossimi nei prossimi mesi saranno fatte è evidente che il problema sia di natura politica le province ridotte a denti di secondo grado dalla legge del Rio non hanno disponibilità economica per svolgere le costose attività di competenza come la manutenzione delle strade provinciali e la possibilità di un ritorno al passato di una sorta di restaurazione e argomento di strettissima attualità andiamo a vedere restando sempre a brindisi cosa ci racconta la cronaca del nuovo quotidiano di Puglia fari sulla movida il risveglio dello spettacolo la città tra live e arte le serate ma anche i controlli dopo due anni di silenzio riesplode la festa tavolini presi d'assalto di spalla regole non è guerra ai locali indagini della Digos sui decibel De Rinaldis Saponaro di Civilmente in centro spiega le ragioni delle proteste dei residenti sono sei le attività finite nel fascicolo della questura controlli in centro dopo le segnalazioni e le denunce precari i pressing dopo l'intesa tutti subito in servizio la FP CGL e le altre sigle sindacali sono soddisfatte ma è lite sulla mancata informativa preventiva l'ASL rassicura già domani partiranno le stabilizzazioni a secondo del fabbisogno ancora la forza delle donne opera d'arte donata dai pazienti all'unità di senologia l'ipotesi della tangente al via il processo per l'ex sindaco De Carolis la procura contesta la richiesta di una presunta mazzetta da 150 mila euro per il progetto dell'ex medal siderurgico Liuzzi un filone di inchiesta sui Deors prima udienza fissata il 16 gennaio di spalla schianto con un camion una donna finisce in ospedale niente prove della tentata truffa all'Inps assolti due soci di una cooperativa siamo a Torre la sede dell'Inps di Brindisi due soci di una cooperativa sono stati assolti per dall'accusa di tentata truffa nei confronti dell'ente per l'accusa puntavano a percepire l'indennità di disoccupazione agricola bombe carta nel cortile della scuola sempre a Torre primi candidati allo scoperto Quartulli scioglie le riserve il dirigente comunale pronto a guidare uno schieramento senza sigle politiche gestione straordinaria verso la fine in corsa anche l'ex sindaco Lanzillotto siamo a Carovigno invece a Mesagne quella delibera mai discussa Ferraro va all'attacco una città smarrita e spenta così Ostuni rischia il baratro questa è la riflessione ancora quartiere San Lorenzo nuovo look in cantiere procedono i lavori di riqualificazione programmati e già avviati dal comune il sindaco di Nuzzo dice in stato avanzato le opere relative alla viabilità e al verde da Francavila Fontana ad Oria cerimonia in ricordo della studentessa morta in un incidente tra pochissimo andremo a vedere le pagine interne delle altre province intanto continuiamo a restare su Brindisi dove un ragazzo di 19 anni è indagato per violenza sessuale nei confronti della sua ex avrebbe prelevato foto e video intimi dal telefono della sua ex per costringerla ad avere ancora rapporti sessuali con lui minacciandola che in caso contrario li avrebbe mostrati i suoi genitori uno studente Brindisino di 19 anni è indagato dalla procura di Lecce per violenza sessuale e accesso abusivo nei sistemi informatici la denuncia è stata presentata in procura da una ragazza leccese che aveva avuto una relazione con un suo coetaneo una volta finita la storia lui avrebbe prelevato immagini dal telefonino delle ex che ritraevano i loro momenti intimi per costringerla ad avere con lui ancora rapporti sessuali l'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore di Lecce Rosario Petrarolo che ha incaricato il consulente tecnico Silverio Greco di effettuare sul pc e sullo smartphone del ragazzo una aperizia per stabilire se effettivamente egli si sia impossessato dei filmati della sua ex compagna e soprattutto se li abbia diffusi sul web o su chat la denuncia querela è stata presentata circa due mesi fa dalla presunta vittima il 19enne Brindisino che si dichiara estraneo alle accuse e indagato a piede libero a Lecce adesso le pagine interne del quotidiano di Puglia super bonus nuovo record 5.000 pratiche in un anno da gennaio addio al 110 il bilancio dell'osservatorio aforisma 5.000 pratiche per 667 milioni in un anno ma dall'inizio del 2023 si cambia le novità previste dalla legge di bilancio viene fatto uno zoom su questo anche i costruttori avvertono lavori si rischia la frenata ancora l'hotel Tiziano in vendita base d'asta oltre 10 milioni ma nessuno si presenta il 19 dicembre sono scaduti termini per le offerte di acquisto dell'albergo invece nella fase della manifestazione di interesse quattro aziende si erano fatte avanti Tialz Lelecce ebrae nuovo direttore sanitario dell'azienda ospedaliera il palazzo specchiato sul viale Otranto diventa un grande centro commerciale era vuoto da 10 anni abbandonato nel degrado da febbraio ospiterà lo store di Idea Sposa ragioni di sicurezza Cerfeda cambia nome si del tar al ricorso del pentito la generalità potranno le generalità potranno mutare l'ex boss oggi un uomo libero ha un lavoro e ha voltato pagina le ex giudice Nardi dal GUP sono stato inseguito e non sono più sereno il processo giustizia svenduta siamo a Casarano il faro dell'antimafia sulla striscia di attentati ed è allarme criminalità indagini sui roghi e sull'ordigno esploso poche ore prima della vigilia di Natale nel mirino anche l'azienda di rifiuti e una concessionaria di autovetture nelle settimane precedenti si convochi un consiglio monotematico dicono intanto Germania dubbliche omicidio domani funerali di Sandra travolto da un'auto in piazza un uomo finisce in ospedale a Verno le omicidio del pensionato il pubblico ministero dice giudizio immediato c'è l'evidenza della prova per la procura per i quattro imputati per l'atroce delitto Donato Montinaro pestato per rapina dopo l'arresto in due hanno confessato una malformazione cardiaca ucciso Davide oggi i funerali il tutto è successo nel giorno di Natale a Castromediano a perdere la vita Davide Felix di soli 17 anni assenze per 10 mesi 5 consiglieri a rischio la difesa è per protesta ipotesi di scadenza per gli esponenti del ritorniamo insieme il legale Sticchi Damiani mai abbandonato l'interesse pubblico a Caserano l'albero da record di Filograna Sergio con 1500 dipendenti che formano appunto l'albero a Gallipoli la libreria Macaria compie un anno sempre da Gallipoli piano di zona in arrivo 187 mila euro rientriamo in studio ci spostiamo adesso a Bari nessuna emergenza criminalità a dirlo il comandante dei carabinieri di Bari colonnello Francesco De Marchis che commenta la classifica del sole 24 ore su sicurezza e giustizia che vede il capoluogo pugliese 88esimo a dispetto di una classifica che sicuramente non è soddisfacente non mi sentirei di definire oggi Bari una città nella quale non si vive bene o una città che è attraversata da una particolare emergenza criminale e a proposito di questo nell'ultimo anno negli ultimi 12 mesi si parla di 50.000 interventi da parte dei carabinieri tra Bari e la città metropolitana Sì lei ha citato un dato molto importante che è il dato che riguarda l'attività di prevenzione di prevenzione generale sul territorio vorrei sottolineare innanzitutto il fatto che l'efficacia di questa attività molto spesso sfugge alle statistiche nel senso che noi ad esempio non saremo mai quasi mai in grado di sapere per esempio quanti reati sono stati prevenuti per la circostanza che in quel determinato momento a quella determinata ora in quel determinato luogo è transitata una pattuglia dei carabinieri che appunto ha impedito la commissione di un reato quindi è un'attività che molto spesso non emerge nei numeri da un punto di vista della sua efficacia però è un'attività fondamentale lei ha citato un dato importante noi abbiamo tutti i reparti carabinieri della provincia hanno proiettato circa 52 mila pattuglie sul territorio nel corso dell'anno con un incremento di oltre 7 mila servizi rispetto all'anno precedente sono numeri importanti servizi nei quali peraltro sono state identificate oltre 270 mila persone e controllati oltre 170 mila veicoli è un'attività fondamentale che ha una rilevanza strategica per noi non solo dal punto di vista della prevenzione dei reati ma anche dal punto di vista di quella vocazione di vicinanza al cittadino che si esprime anche proprio con una vigilanza costante visibile sul territorio andiamo a vedere invece le pagine di Taranto del quotidiano di Puglia nel viaggio Mudit nell'antica masseria ora si produce cultura a due mesi dall'inaugurazione il museo degli illustri tarantini è diventato il fulculo del quartiere e ritrovo dei giovani che al sabato frequentano la sua biblioteca ricco il programma di eventi attualmente in corso la mostra sui Leonida e Quasimodo e domani la natività nella storia dell'arte conversazione con Patrizia De Luca Asi Carrieri lascio l'incarico in provincia la decisione dopo la conferma adoro il mio contributo ma gratis una scelta per continuare il percorso avviato per il rilancio Mediterraneo sicuro cambio di comando si terrà questa mattina con inizio alle 10 a bordo della nave Anfibia San Giorgio nella base navale San Vito la cerimonia di avvicendamento controlli della finanza sotto sequestro 36.000 prodotti con marchi falsi servizi cimiteriali stato di agitazione per la cop Kratos parte il Taranto Grand Tour in vetrina cultura e storia da Manduria canico la museruola sì ma non sempre il Tar boccia il sindaco ordinanza da rivedere dopo il ricorso dell'associazione Art annullata la misura restrittiva introdotta col provvedimento aria irrespirabile serve la centralina sempre a Manduria a Palagiano invece introduce 12 parcheggi rosa l'amministrazione comunale elicottero a bassa quota ginosa tanta paura ma è un'esercitazione buon santi è stata solo una simulazione di salvataggio in parete il viaggio di maestro nella ceramica un dono a grottale oggi presentazione del progetto radici pensando agli studenti l'assessore Vinci dice vogliamo tramandare le nostre tradizioni a Castellaneta Marina ha trovato morto un raro esemplare di tartaruga caretta caretta risparmio energetico l'aggiunta a vari fondi per il centro servizi tutte le risorse a disposizione saranno utilizzate per la riqualificazione della struttura di piazza d'Angio tariffetari al vaglio del consiglio comunale a state a Pulsano vandalizzate le panchine della piazza restiamo a Taranto domani nuovo importante capitolo della vertenza acciaierie d'Italia FIOM Wilm OSB si riuniranno presso la sede della provincia per incontrare il presidente Melucci non parteciperà alla Fim Cisla l'attesa resta quella di una giornata che possa essere davvero decisiva ma nel calendario della vertenza ex silva quello di mercoledì 28 dicembre sarà sicuramente un appuntamento importante FIOM CGL Wilm OSB si riuniranno infatti presso la sede della provincia alle 9.30 per incontrare Rinaldo Melucci sindaco e presidente della provincia di Taranto ed altri rappresentanti istituzionali alla vigilia dell'assemblea dei soci di acciaierie d'Italia è giunto il momento hanno sottolineato che istituzioni locali regionali e nazionali si assumano le proprie responsabilità scegliendo con i fatti e non con le parole da che parte stare l'incontro servirà anche a preparare una manifestazione a Roma sotto Palazzo Chigi per il prossimo sarà la FIM CISL Valerio Dallò della segreteria nazionale spiega ad Antena Sud i motivi della scelta Noi siamo invece convinti che la mobilitazione che costa ai lavoratori debba avere obiettivi chiari i lavoratori devono sapere a cosa mirano se c'è un testo di un decreto che aspettiamo nelle prossime ore e qualcosa non ci convincerà è chiaro che chiameremo anche noi la mobilitazione come abbiamo già dato la disponibilità ma fino a quel momento scioperi a prescindere perché c'è un governo o un altro a noi è chiaro che non interessano aspettiamo i testi aspettiamo l'assemblea dei soci e saremo pronti a mobilitarci insieme a tutti gli altri sindacati Il mercoledì dovrebbe coincidere anche con il Consiglio dei Ministri che potrebbe varare un decreto per accedere l'Italia comprensivo di un prestito ponte d'Arcelor Mittal che tutte le organizzazioni sindacali giudicano negativamente E allora in merito a questa notizia in realtà come ho detto poc'anzi l'incontro è previsto per la giornata di oggi dunque le sigle sindacali tranne la FIMCISL si recherà nella mattinata di oggi presso la sede della provincia per incontrare Melucci torniamo sui giornali andiamo a vedere invece le pagine di Bari le pagine interne i danni di Natale giostre bruciate bidoni esplosi i teppisti fanno feste in città immagini davvero sconcertanti queste tra la Vigilia e Santo Stefano numerosi episodi di vandalismo a Bari Vecchia area ludica fatta a pezzi la vedete dalle immagini al San Paolo e Madonnella cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme fatti saltare in aria si contano i danni e si cercano gli autori probabilmente chi ha agito lo avrà fatto per passare del tempo in questi giorni sicuramente nelle fasce notturne quindi verrebbe da chiedersi ma i genitori chiedono ai propri figli che cosa fanno quando escono e stanno per strada intanto sempre da Bari dal commercio abusivo alle violazioni stradali multe record in appena tre giorni oltre 1300 capodanno ecco il palco e scattano i primi divieti strade e piazze già chiuse partita l'installazione della megastruttura per il concertone della notte di San Silvestro Corso Vittorio Emanuele le prime misure stop alla sosta nella zona di Piazza Libertà boutique e librerie di nuovo prese d'assalto ma questa volta è per il cambio regalo dopo appunto le festività natalizie la strage quattro incidenti al giorno Bari e Maglia Nera il 2022 questi dati come abbiamo approfondito di Asset scontro al San Paolo ferita a piccola di sei anni bimbo travolto ucciso shock a noi cattaro carambola fra tre auto tra Monopoli e Castellaneta salgono a due i decessi sempre dal quotidiano di Bari ambulanza finisce fuoristrada muore una mamma della consigliera la vittima Antonia Dragonetti si trovava in un'automedica dopo aver fatto la dialisi la rabbia il dolore di Ciliento tratto di strada non illuminato inchiesta della procura di Trani le reazioni messaggio di cordoglio e vicinanza dai gruppi in consiglio regionale Asl lascia a sorpresa il direttore Sivo il responsabile dell'area sanitaria si è dimesso dall'incarico a soli dieci mesi dalla sua nomina il medico ha gestito per due anni la pandemia covid scelta personale nessuna dietrologia torno a casa Baritec nuovo stop alla vendita doccia gelata per 114 lavoratori con una lettera trasmessa ieri mattina alle 8 l'azienda ha comunicato la sospensione ieri le parti avrebbero dovuto completare l'iter burocratico oggi riunione in task force regionale lungomare di Bari Vecchia lavori ad aprile lavori di restyling del lungomare dunque fece uccidere l'amante dall'ex marito presa 35enne dovrà scontare 16 anni adolorata Cuzzi era in Belgio condannata in via definitiva per concorso in omicidio l'ex coniuge uccise il 28enne Stefano Melillo a giugno del 2016 il cadavere è poi gettato in un pozzo Mola di Bari vinta una casa 200.000 euro con il gioco Sisal discarica Martucci rifiuti dal Gargano e polemica sulla decisione dell'Agera conversano ammolfetta abusivismo comune parte civile in due processi area ludica dei bambini Largo Santa Chiara vandalizzato l'abbiamo appena visto sulle pagine interne del quotidiano di Puglia quanto avvenuto nella scorsa notte nella città vecchia i responsabili sarebbero dei minori andiamo a fare dunque adesso questo approfondimento il seggiolino della giostra bruciato il tappeto antitrauma riparato solo poche settimane fa distrutto i vasi in resina e un cassonetto per la raccolta del vetro devastati e dati alle fiamme atti vandalici in pieno regola nelle scorse ore a Bari Vecchia a danno dell'area ludica per i bambini in Largo Santa Chiara secondo fonti istituzionali ad agire sarebbero stati giovani che avrebbero utilizzato botti illegali per vandalizzare il tutto a segnalarlo alle autorità alcuni passanti tanta rabbia inspiegabile ha commentato il presidente del municipio 1 Lorenzo Leonetti arredo urbano ottenuto grazie ai sacrifici di una città che si sforza di diventare più civile più a misura di bambino più europea ma così tanta ignoranza non fermerà la nostra corsa verso una Bari migliore conclude Leonetti pertanto il municipio 1 cercherà di risolvere questa situazione al più presto e chiede la collaborazione ai cittadini della zona affinché aiutino l'ente a individuare i protagonisti dell'atto vandalico sarà un piacere rovinarli il fine anno conclude Leonetti ci fermiamo breve pausa pubblicitaria al rientro la linea alla redazione sportiva e poi continueremo a raccontarvi quanto accaduto nelle ultime ore e quanto accadrà nelle prossime in Puglia e Basilicata vi aspetto